Le condizioni per seguire Gesù sono due, ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Lo ha ricordato questa mattina Papa Francesco nell'Omelia della Messa celebrata nella cappella di casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo di Luca proposto dalla liturgia di oggi, che racconta di Maria che voleva salutare Gesù, ma non riusciva ad avvicinarsi a causa della folla che lo seguiva e lo circondava. Ma Gesù continuava a parlare alla gente, e amava la gente, e amava la folla. Dal punto che dice che questi, che mi seguono, quella folla immensa, sono la mia madre e i miei fratelli. Sono questi, e spiega, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Queste sono le due condizioni di seguire Gesù, ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più, semplice, semplice. Forse noi l'abbiamo fatta un po' difficile, con tante spiegazioni che nessuno capisce. La vita cristiana è così, ascoltare la parola di Dio e praticarla. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo. Con questo Dio mi parla, dice qualcosa a me, e se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio, ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio.